Salve a tutti e bentornati a questo nuovo Two Minutes Ready. Torniamo a parlare del giovane The Supreme, con la sua Oh God, in collaborazione con Knight. Ci concentreremo su quel flautino che si sente in sottofondo. Per prima cosa, come sempre, ascoltiamo. Guardiamo le note. Allora, le note sono Do, Sol, Mi bemolle, Sol, Re, Sol, Do, Mi bemolle, per quanto riguarda la prima parte. E poi fa Sol basso, Fa, Re, Fa, Si, Fa, La bemolle, Sol. Suonato lentamente è così. Alla velocità giusta è così. Parliamo ora del suono. Come dicevo prima, è chiaramente un flautino. Un flautino molto breath, molto respirato. Aprirò quindi il mio bellissimo menu dei flautini. E andrò a cercare... Ecco, tipo questo. Aggiungerei un altro flauto... Da tenere in sottofondo, tipo. Questo, questo che è molto respirato, in sottofondo ci sta. Aggiungiamo ad entrambi i suoni i nostri 200 kg di riverbero e poi li attiviamo entrambi. Prendiamo entrambi i volumi, li abbassiamo a zero e li alziamo uno alla volta. Questo è il principale. Quello che vi consiglio di fare per rendere l'esecuzione un pochino più simile all'originale è di suonarlo staccato. Così è legato. E così è staccato. Bene, direi che ci siamo avvicinati abbastanza. Grazie mille per aver seguito questo Two Minutes Ready. Io vi ricordo, come sempre, di consigliarmi un nuovo bravo nei commenti, di fare un salto sul mio canale Twitch e noi ci vediamo ad un prossimo video. A presto! Grazie mille per aver guardato il video.